Bella a tutti ragazzi, sono Samuel, stiamo registrando su una mappa molto molto complicata Adesso Baddark ci farà il favore di leggerci il regolamento visto che in inglese noi, lo sapete, siamo tarocchi in inglese Comunque è una super hostile Allora, parto? Vai Allora, così, questa è la mia prima mappa originale di tre Che sono tutte mappe survival senza nessun fine, praticamente Da una fine Come tutte le mappe survival Derped Che cos'è derped? Bello, l'inglese tuo, bello, mi piace Penso più o meno bisognerà andare in giro, vabbè Sì, dovete bagare senza meta Questa Oddio, che cos'è? Questa non era fino alla quarta mappa Non esisteva fino alla quarta mappa Ho aggiunto il monumento della vittoria Sono Cioè, non c'era il monumento della vittoria Dopo la quarta mappa l'ho aggiunto E Ho aggiunto la lana Mappa delle tue, Baddark Sì, ho capito Nel vittorio modo, praticamente, vabbè, vi spiego più o meno Bisogna prendere tutte le lani colorate che ce n'è una per ogni dungeon E portarla al monumento della vittoria Quando si è completato il monumento della vittoria abbiamo finito la mappa, praticamente Più o meno penso sia questo Non è la miglior cosa, però mi sembrava quella più giusta Così l'ho rifatta proprio per fare questo monumento Ok Qui abbiamo i battle sign di livello 1 Se volete farli vedere, apriamo così Vediamo Ma non vi mettete Aprite la cesta C'è un solo battle sign con knockbar 2 Chi lo vuole? Io, perché so pro Ok Io ho preso il cartello normale Quanti pantaloni prendiamo? Ma quanti ce ne prendiamo? Prendete un po' di sabbia ragazzi Perché ci servirà E andiamo subito a recuperare l'albero Perché Samma l'ha già giocata al cheater qua Io ci ho già giocato un po' Quindi un po' che la conosco Ma ragazzi ma quanti... Occhio alla lava Se prendiamo? Io ho preso uno Io ne ho presi 5 Vabbè pigliani quanti ne vuoi Dopo le li depositiamo Tanto vediamo di andare subito al monumento Che siamo copiando Io ho trovato della flint Non è vietato rompere la sabbia qui No 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 Puoi tranquillamente rompere quello che vuoi State attenti Ci sono dei punti dove si scende Che ci possono essere nascoste delle cell Tipo qua c'è un cartello che dice Per i veterani di Super Hostile Don't be saved everything Fades with time New adventure and new location Beh e l'inglese ti sa ma sentire com'è C'è Qui c'è dei cartelli nella lava Perfetto Aspetta che io uscire non puoi vedere che cazzo c'è qua sotto Ok ragazzi qui c'è tante ragnatene ma ci saranno le ceste qua Ragazzi ma queste ragnatene ma ci saranno le ceste qua Ragazzi ma queste ragnatene ma avete visto? Eh ma se non abbiamo la spada ci mettiamo cent'anni a romperlo Eh lo so Lo stavo pensando C'ho la zappa ma ci serve la pala Perché c'è la pala? Perché lo prendo il filo con le mani e non lo puoi prendere Con la spada Vabbè io risalvo con la sabbia Ragazzi guardate giù se ci sono altre ceste per caso Noi i fili li pre... Io ho visto c'è dei cartelli qua giù nella lava Leggili se eh Ah qua c'è una via C'è qualcosa Ci sarà una cesta lì però come la rompiamo? Vado io Vai vai tu Albi Allora aspetta vado a vedere Oddio ma c'è tutto un percorso Aspetta faccio io Ah ma posto nascosto percorso vieni qua Eh anche di qua Trax Trax ma questa è pia per culo si stanno incontrando Tanto tempo fa Un piccolo zombie pigman costruì un tempio gigante Vabbè Ha perso tantissimo tempo Un hard drive failure Quindi un errore dell'hard disk Ha perso tutto Ha perso tutto praticamente Ho provato a ricostruirlo per la memoria Ma non sapevo come era stato fatto identico E forse il piccolo zombie pigman ci verrà a dare una mano Ahia ahia i zombie Lì però c'è carmai ragazzi ci dobbiamo andare Sama vieni dietro a me Sama vieni vieni Sama ho la spada Oddio è tutto buio Come fai per la spada? So l'ho trovato allo schifo Perché più che altro c'è il carbone qua sotto Ma c'è il carbone va via da me Ma chi va sopra? Ragazzi abbiamo bisogno di questo carbone assolutamente Io c'ho il piccone Per forza Se mi tenete lontani mob io inizio a pescare carbone Ok ci vado in mano Io non so come fare a raggiungervi i maledetti stronzi Dove fai? Oh ragazzi i zombie per da mangiare Sono fuori ancora Sono a prendere la spada Ti sono venuto a prendere No 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 andate voi con la spada Andate voi Io scavo carbone Dietro Dammi a me una spada Dietro Baddark No spero vengo di una spada Ah no io c'ho il cartello con C'ho una cazza di ragnatela C'ho la like a tutto Ragazzi un qualcuno che c'ha una spada in più Un piccone in più per caso Io non ho un piccone Una palla e un'ascia Io ho un cartello con knockback 2 E' un cartello senza knockback Mi sento inutile allora Ragazzi c'ho C'ho 4 cubetti di legno Quale bello è che è tipo pieno di carbone anche più in là Chi ha 4 cubetti di legno? Io vittorio Eh subriuk Eh vieni qua Eh aspettavo da prendere gli altri Dove l'hai preso? Dall'albero già? Maledetto Stai attento a non perdere neanche uno che ci saranno tutti E soprattutto Soprattutto i sapline Soprattutto Non ne perdere neanche uno Ryuk Se ricordo bene questa mappa quando l'ho fatta in precedenza Precedenza C'è più di 1000 carbone qua Sì lo so Infatti ne sto guardando Carboni eh? Almeno uno stack per fare torce Fornace Sì sì prendi tutto Luca carbone Tutto è possibile Io mi sento inutile C'ho soltanto il pugno E tu? Ma sai cos'è il brutto? Ma che qui Chi guarda i video Tipo da chiunque Anche se c'è la brightness al massimo Non si vede in caso Mi hanno fregato la spada Sembra che non ci vinciono Eh anch'io Ma noi vediamo Ma su Youtube La visibilità non la mette bene E infatti sembra tutto buio Max Dove sei? Superiuk è morto No si è morto superiù con la legna ragazzi È finita Abbiamo già finito di giocare No 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 c'è ancora C'è ancora la legna Ci sono i creeper sopra Ci sono i creeper sopra Aiuto Arrivo Sì 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 Sto 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 allora venite giù, state dentro qua no no st'altra zona li butto via con... Knoc io ricordo stai giocando ancora con la chichi con la chichi tra le altre cose è pieno oddio bravo eh io ho fatto raggi ti sono posso togliere sta santo? addio 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 regà io mi sa che crepo no ma insomma dove cacchio siete scesi? eh c'è qualcosa e ragazzi che so come posso fare me stanno a circondare ok wow ma sono qui come morire non so forte perché io posso è la gente che se ne vado a cavare se non dovete uscire non uscite facciamo almeno passare la notte io continuo a scavare un po' di bambone problemino apri il cibo come ci mettiamo io ho tre panini, una bistecca e una torta io ho già tre cosciotti io sto per morire io ne ho sei di cosciotti io ho tre cosciotti in meno no 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 infatti io sto per morire no io sto per morire oh ragazzi sono tante spada porca droga eh la spada l'hai data a me? ho due cosciotti eh ma io ho combattuto con i creeper quanto sono prosto giro in uno scheletro suicidati se non hai niente nell'inventario no io ho cartello eccetera se non hai niente di importante vieni qua lo dai a qualcuno e ti suicidi no cazzo c'è un'altra regga io sto rompendo la roccia a cartellate mi dai quattro cubetti di petra ho buttato qua la vera hai la legna super yuk? si ce ne ho 18 ma perché io sono riusciti hai presi yuk? e vado dai cristi sarebbero? gli alberelli super yuk? no ancora no ho fatto la legna senza prendere gli alberelli no perché ancora intero perché devo andare a prendere che c'è il mob spawn e mi stava ammazzando sono scappato per questo oh no non siamo porco ecco è morto dammi un po' di legna ma ragazzi perché c'ho un cartello io ti do un po' di sabbia per salire super yuk adesso inizia a farvi qualche attrezze quindi i primi picconi un paio di cose super yuk non esagerare con la legna perché ci serve allora aspetta io vi lascio la roba e vado a sacrificarmi per prendere le cose ok per la base dei miei più che altro pure io importante importante riuke dovresti fare qualche spada in modo che possiamo prendere le ragnatele per fare i letti è una cosa importantissima in questo momento mi raccomando il cartello ah no la so mi raccomando il cartello ridatemi la sabbia che se non so come farà uscire vabbè pure io è vero eh tieni bando anche a me eh la legna chi ce l'ha ah ma ti ho buttato la legna ma c'è un po' di serra ho mai fatto la legna che stai giù potrò diventare aspetta ho fatto la scala anche a me la sabbia ah no ho fatto la scala ma 18 pezzi legno ma già lavorati riuke mi sembra mi sembra soltanto una scia ve lo vado a prendere e io l'ho asciutto e Cristo santo dal cazzo son finito oh è me eh io c'ho una spada mezzoglietta ma dove sei superato ho trovato un posto dove c'è una cesta per entrare un po' di nuovo vabbè ok il cibo ce l'avete che sto muore per morire vabbè tu escape creeper se non c'è da averlo qua c'ho una cesta chi mi ha buttato la la ce l'avevo io non volevo questa soddisfazione questa responsabilità ragazzi mettete mettete tutto nella cesta qua che adesso tra un po' ci spostiamo qui sono curioso di vedere che c'è perché questa cosa di terra ma fa tanto da capo non mi convince un po' di cibo me lo date oh cos'è una torcia giù giù ce l'ho da nessuno perfetto no non c'ho niente vieni con me vieni con me albim ma non c'ho una spada non c'ho un cazzo mi serve almeno una spada tu vado a uscire no vatti a suicidare riuke no non c'è gusto c'ho il cibo ma è meglio che lo teniamo ragazzi no il cibo tenetelo ricordo in un caso non è andata a suicidare c'è sti cazzo no perché non ne abbiamo proprio allora le spade Joe prendi più ragnatele possibili che ce ne so le spade che so best pvp vedo c'ho la spada mezzarotte sappilo ma fa niente no no fermo 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 ahi fermo aspetta siamo io morto porco demonio voglio che c'è la spada io sto raccogliendo la dagnatura eh ragazzi è pieno di mob spawner nascosto qua c'è la spada eh dai porcatoio è una marea di creeper non so ragazzi uh quanti suono ahia spada non sono morto dai vabbè uccidimi uccidimi c'è lo spawner oh non muoio vabbè imbuttano alla volare che me può fa ok gli avanza è una spada abbiamo quattro pezzi di lana bene buon perfetto chi è che aveva preso vai e ce ne vuole ancora e non ci dovrà venire per l'ultima parte di lato dove siamo entrati giorgia c'erano le diretti c'erano le diretti c'erano le diretti per te che adesso sorgono c'erano dov'è l'entrata dove sono ahi qua ah guarda mamma mia c'è 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 che porta forse a una cesta dove e quando tu giri c'è una strada appena tu guardi sono qui dove stavamo da prima che c'era la chiaia per qui per qui ho tutta la squadra ho tutta la squadra corri cosa ecco vedo galbi insomma la faccia tutto rando se riesco non ho la squadra aspetta io sto cercando di rompere mobsponer da cubi eh manco io presto a correre no non ce la vai se hanno piano 3 pezzi di una spada 6 pezzi di lama 6 pezzi di lama più un filo quale ho dovuto aver messo un mobsponer nell'albero ho messo tojo ma già non c'è metti un cubo no ce l'ho levati no ridammela ok se ti sposti la prendo eh si aspetta mi sposto tra la lancia tutto io so anche io voglio qualcosa ok ok una spada anche per me eh anche per me le spade ci servono per il filo porca froia vabbè ragazzi qui ci sono dei panini delle altre cose non mangiatele per favore ok ragazzi c'è uno pezzinino che ci sono all'incirca quanti siamo? eh non lo so nel server almeno c'è ben sette e quindi sette per tre eh sette per te perfetto ok creeper cavati i pezzi di schifo io che c'è un creeper dietro vado a spodere scusi no quanto carbone c'è mamma mia ho povore del buio vieni creeper vieni qui ho povore del buio vado a spodere bravo fai bravo fai pulizia esplodi esplodi no ci serve per fare la lana esplodi è un po' il cattolio non c'è essere raga ho trovato tutti gli attrezzi raga e gli attrezzi bravo e si tutti tutti e anche cibo molto cibo molto cibo benissimo buono sento rumore di creeper raga assoluto che non ho avuto di farlo tantissimo somma ah sono lezze sono lezze sono lezze sono lezze dobbiamo il primo video perchè già viene già lungo no 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 14 minuti adesso che ditelo 14 minuti ti ricordo vabbè poi tagliate raga dai vabbè poi tagliate vabbè faccio prima seconda parte ogni volta fare benvenuti a tutti c'erano a fan bagno per il percorso frutturte calma per il bambino la vostra io sono mondiale io te giusti basta quindi se vuole vedere le visuali ragazzi sapete come fare paolo io ho i miei messaggi non va bene non ci vedo in descrizione per me tutti i canali descrizioni ho l'esercizio ho sentato mi raccomando andate da samba scrivere spammono no no giorgia ciao sono giorgi giorgi scrivere patate ragazzi c'è una cesta qui io fra poco vado a suicidarmi perché c'è cosciutta io io esco fuori regale c'è bisogno di lei vado a fare la passeggiata ho bisogno di terra una cosa importante che ci serve che ancora non abbiamo sono gli alberelli per far crescere la legna posso fare una domanda che so quelle ceste che ho io ho visto prima c'è so delle ceste tipo in mezzo di parkour per arrivare a delle isolette che devo fare avete trovato le ceste le avete prese io ne ho trovato una con le pozioni io ne vedo una ragazza ragazzi 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 abbiamo 21 pezzi di lana giusti giusti occhio c'è una domanda ragazzi direi di fare sì esattamente quanto però ferma ferma no abbiamo 12 ragazzi sto cercando di ammazzare uno scheletro sotterrandolo con la sabbia oddio qua c'è lo sfondo di blaze via via ok lo scala cosa faccio siamo inizio con i lati ci mancano comunque poi non basterebbero ho una spada io direi una spada e giorno notte fuori io nonno se si è raro le cose andiamo direi di sì regalo era mattina quindi io ho bisogno di suicidare il senso di mangiare comando il suicidio un ottimo benvenuti nella seconda puntata di let's play io sto togliendo e la gente sta mettendo le cose mi serve una mano recuperate un po' di roba qua per favore vabbè baddark ti ammazzano rompi recupera le cose che ci sono qua aspetta ti do anche questo ragazzi se io muoio perdiamo tutto quindi tentate di difendermi aspetta io mi sto suicidando mi ammazzo ecco no io te la faccio e io prendi tutto ce la fate? ecco me baddark dai ragazzi pronti? chi ha la spada? le spade le avete? aspettate ma sta chest qua si può prendere? io non rompe quella che ti prendi si saltatemi anche la chest forza eh me la prendi la roba no quella che ho dentro i leggins all'inizio si 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 prendi quali servono ok ok passami una nascia una spada quella una nascia? anche io una nascia una spada guarda una spada ne ho una io c'ho una chest chi le ha prese ragazzi fate girare le cose per tutti no io una spada non c'ho niente io c'ho una spada qui c'ho solo tutti i portano uccini io ho bisogno di terra ho bisogno la terra ce l'ho io la terra ci serve per piantare le cose dopo eh no ma mi serve la terra per mettere sotto l'albero io avrei bisogno di una spada giusto giusto io prendo altro standard sto arrivando dove sei? eccomi oddio voglio farlo ragazzi se io muoio siamo morti ve lo dico eh eh no adesso avete morto io sto facendo la piattaforma lì sull'albero per evitare occhio io sto sopra tipo un vulcano diciamo grazie super per avermi scavato sotto aia allora saluto morire che ti giuro io inizio andare al monumento della vittoria è qua dietro è in boscata qua dietro ma da prima me ma da prima me no 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 ci devo andare perché non ci sono mobba il monumento della vita non dite cavolate se venite qua dove sei? allora io sono all'albero sapete dove era l'albero? si si se sei girato intorno all'albero dove c'è un passaggio esatto albito verito adesso dove ero io? ok scusate ragazzi ok 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 ho capito qui c'è un passaggio prima a trovarlo per chi non lo sa è un casino oh cazzo dove siete? io vedo cazzo no ma te copro dal dietro in casa arriva qualcosa chi è che mi da una spada? grazie io ho chiuso ok eccoci qua all'inizio è il monumento della vittoria si esatto vediamo le va vabbè fagli recuperare la legna bene i sapling mi raccomando eh eh ho bisogno di terra ho bisogno oddio no Samma sta attento di fianco che se caschi giù c'è la cosa lo so c'è la lava anche ma come ci siete arrivati la giù? da dietro ragazzi dove siete arrivati? riuke non ci diamo noia c'hai anche il cartello c'è 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 anche il cartello hai trovato il buco dovevi scendere? ma penso ci sono delle ferrovie bravo lo dico per quelli nel video quando scendete ci sono tutti gli attrezzi in oro più 8 biscotti e 16 torti poi il resto è nella cesta eccomi avrei questa cesta ragazzi terra terra buona buona allora io direi di iniziare a se vengono giù quelli vi faccio vedere eccomi il monumento della vittoria venite questo attenzione a non cadere nella lava questo è il monumento della vittoria c'è una cesta dovremmo mettere tutti i blocchi vedi victory monument con la lana bianca lana orange eccetera eccetera ci siete? ma è dritto? no sto arrivando qui c'è un altro cartello chest William monument supply chest light up è un gioio ma dove caspita siete finiti qui è pieno ragazzi ci sono 19 torce 19 trapdoor zucche un jukebox con un disco 32 vetri 28 cartelli e roba strane ma ma scusate che ce ne facciamo del jukebox con il disco io c'ho 16 eeeh oh madonna quanta lava si state attenti a non cadere eh comunque questa è molto potrei fare così ok tutta la lana di tutti i colori dobbiamo mettere qua che c'è lana bianca prima lana l'abbiamo già messa quindi direi per la prima puntata ragazzi però facciamo vedere bene faccio vedere aspettate che vengo anche a far vedere se venite con me vi faccio vedere dove abiteremo ragazzi allora qui praticamente di lì c'è la coltivazione dei funghi vedete che buona ragazzi che possono spawnare mob oddio appunto qui ragazzi viviamo in questa stanza qua c'è uno scherzo oh si piace occhio cracks oddio qui è pieno apri queste chest certo lo so ci sono già anche i primi letti iniziamo a posizionarli giù ahia ah perfetto aspettate che piazza oh minchia mi avete rubato i letti oh ragazzi è pieno di mob di là dove di là c'è la luce sulla sinistra c'è una leva con la luce ma apri qua non ho ancora usato niente questi sono quelli che ho trovato nella chest di prima ok se riuscite mettete giù i letti per favore che iniziamo a settare gli spawn o meno se crepiamo zombie oltre a mangiare la torta che lo mangio io ho visto dei letti di quale avete già presi bombi aspettate devo fare lontano c'è la scuola dove la luce aria a sulla strada c'è una leva sto arrivando io metterò la squadra perfetto qua c'è tutto arrivo arrivo ma io ti distrago di zombie vabbè per la prima puntata è tutto un attimo un attimo un attimo un attimo ok vai vai luce luce fu lascia aia ragazzi io penso che per la prima puntata è tutto ci sentiremo nei prossimi episodi bella a tutti da Samai da Kax da Roke da Kizaro da Superyuk e da Madri se vi piace la serie ragazzi pollice in su e iscrivetevi ai canali di altri per vedere gli altri visuali Bella a tutti, ciao ragazzi.